Tutto pronto per l'ottava giornata di Lega Basket Serie A, il Pistoia Basket è atteso sabato sera a Venezia contro la Reier, campione d'Italia, una sfida difficilissima, resa ancora più difficile dalle assenze di Tyrus McGee, Marcus Kennedy e Duda Sanazze, ma Vincenzo Esposito vorrà comunque segnali importanti di ripresa dalla squadra reduce e dalla pesantissima debacle di Reggio Emilia. Con Venezia hai parlato di una gara per allargare un po' le spalle di questo gruppo. Sì, con l'idea di dover allargare le spalle e robustire, quindi provare a crescere e reagire nonostante il valore dell'avversario affinché le spalle più robuste e più larghe fatte giocando contro le situazioni di difficoltà ci facciano trovare pronti nel momento in cui il roster sarà al completo e arriveranno partite sicuramente più abbordabili. Come è noto non ci saranno McGee e Sanazze, a queste due assenze si è aggiunta anche quella di Marcus Kennedy, la speranza è che non si tratti di nulla di grave. Mai, questo lo sapremo nel fine settimana, però sicuramente non sarà della partita e speriamo di avere buone notizie, nel senso che non si tratti di una roba che richiederà l'intervento chirurgico o dai tempi molto lunghi. Purtroppo non ci si può fare nulla, sono cose che succedono, si valutano di giornata in giornata e si va a Venezia con questo gruppo cercando di fare il massimo e anche di più, soprattutto dal punto di vista della reazione caratteriale dopo la brutta prestazione di sabato scorso a Reggio Emilia. Dopo quella debacle del parabigi hai visto in settimana i ragazzi che sono vogliosi di cancellare quella pagina? Vedo i ragazzi comunque sempre durante la settimana con voglia di allenarsi, di comportarsi bene e di reagire. È ovvio che non è sempre matematico, però ripeto ancora una volta i ragazzi hanno dato dimostrazione di capire cosa c'è bisogno e che cosa bisogna fare. Poi è ovvio che la prova del 9 sarà sempre in campo. Poi è ovvio che la prova del 9 sarà sempre in campo.